volevo dire piaggio non ci lasceremo mais me non ma 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 Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi Io sono Matteo Non so come sia iniziato questo video Ovvero magari c'erano le scene con la musica Non so bene come editarlo So solo che mi state ascoltando Oggi con il piaggio La pressione è un po' bassa delle gomme Quindi stiamo attenti Spero che il video state vedendo Ovvero con la musichetta Tutti questi robini qui vi piaccia Ho raggruppato un po' di scene di trial Dei vari allenamenti o comunque delle uscite che ho fatto Approfitto per ringraziare Quelli che hanno comprato la felpa In ogni caso avete ancora Due o tre giorni per prenderle Approfittate ragazzi Che figata il piaggio C'è qui un Diego selvatico Che sta rubando il mais Che magari qualcuno viene a lamentarsi Qua abbiamo il permesso di girare Da zio Come si fa a non adorarlo Ragazzi questo video è terminato Spero vi sia piaciuto come tutti gli altri Vi ricordo che il link delle felpe è in descrizione Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram come Matteo De Graffax E mio fratello come Diego De Graffax Ci vediamo al prossimo video Ciao